È un progetto che è stato approvato proprio questa mattina in giunta e prevede la riqualificazione di Campo Denane sia dal punto di vista viabilistico che anche dal punto di vista soprattutto ciclopedonale. Tre mesi di lavoro che cominceranno nella primavera del 2021 per terminare la prossima estate. Un intervento da 254 mila euro atteso da anni per riqualificare la zona di Campo Denane a Vicenza. Le auto che arriveranno da Viale Margherita oggi sono costrette a svoltare attraverso Viale dello Stadio invece potranno proseguire lungo Viale Trissino e così evitando questo giro fastidioso che oggi gli automobilisti sono costretti a fare. Andremo a riqualificare anche su Viale Trissino tutta la parte di ciclopedonabilità che porta appunto su Viale Margherita e su Viale Trissino riqualificando la zona e mettendo in sicurezza quelli che sono i soggetti deboli della strada che sono pedoni e ciclisti. Nel progetto è prevista la piantumazione di nuovi alberi che andranno ad abbellire la zona. Di fatto Campo Denane diventerà una grande rottatoria ma che permetterà al traffico di essere più fluido e soprattutto ai ciclisti e ai pedoni di muoversi in sicurezza.